La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato il ricorso della Procura e confermato il proscioglimento dell'ex senatore e assessore regionale all'Uelfar Toto Ruggeri, 73 anni di Muroleccese, Pier Paolo Caridi, 57 anni all'epoca dei fatti, sindaco di Otranto, dell'ingegnere Emanuele Mangiulli, di 57 anni di Muroleccese, ex dirigente dell'ufficio tecnico di Otranto, e del sindaco di Scorrano, Mario Pendenelli, di 58 anni, coinvolti in un procedimento scaturito da un'ampia e ampia inchiesta denominata Re Artù e riguardava una presunta autorizzazione forzata per il ripacimento dell'Ido Atlantis in zona Porto Cariulo di proprietà di Ruggeri nell'estate del 2020. Secondo la Procura, l'intervento era stato approvato oltre ai termini fissati dalle linee guida regionali, allo scopo proprio di favorire l'assessore regionale Ruggeri e il consigliere regionale Pendinelli, in un accordo illecito con il sindaco di Otranto che aveva poi indotto il dirigente Mangiulli a fare un atto che attestava falsamente il ritardo dovuto all'emergenza Covid. In sede di udienza preliminare, il GUP Tosi aveva pronunciato sentenza di proscioglimento degli imputati, stralciando la questione d'arresto dell'inchiesta Re Artù, che resta a carico di Ruggeri. La Procura aveva appellato la sentenza alla questione, finì nuovamente al vaglio dei giudici, che ora hanno confermato il verdetto di proscioglimento. La decisione è di particolare interesse, commenta l'Avvocato Antonio Quinto, perché conferma la coerenza dell'operato dell'ufficio tecnico, che ha fatto corretta applicazione dell'articolo 103 del decreto Cura Italia, di proroga di tutti i termini nella fase dell'emergenza pandemica. Eravamo fiduciosi sul fatto che anche la Corte d'Appello avrebbe accolto le nostre istanze, così come è accaduto un anno fa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, commentano gli Avvocati Gianluca Doria e Mauro Finocchito. Abbiamo sempre sostenuto con forza e convinzione la legittimità dell'operato dell'ingegnere Pierpaolo Caridi, all'epoca dei fatti sindaco di Otranto, e che nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale, pur con tutte le difficoltà dovute al momento più critico del periodo pandemico, ha inteso gestire la problematica del ripacimento degli arenili del litorale druntino, anteponendo sempre l'osservanza della legge.